Come l'uovo di Colombo Cerchio e seno attraverso NT Alexander Siate consapevoli che ogni creatura incarnata ha un destino, ma siate altrettanto consapevoli che la predestinazione non è inevitabile. Avete già sentito parlare del principio di libero arbitrio e della predestinazione e apparentemente le due cose appaiono inconciliabili, vero? Del resto, come si può accettare un concetto antitetico in cui si esprime il fatto che c'è una predestinazione e quindi un destino già scritto, inevitabile e un libero arbitrio per cui si presuppone che ci sia libertà di scelta? La risposta a questa domanda è un po' come l'uovo di Colombo. Dovete per prima cosa fare tabula rasa dei concetti, degli schemi mentali che finora vi hanno guidato nel pensiero di questo concetto, va bene? Dovete pensare che il libero arbitrio o almeno la gran parte di questo per le entità si manifesta prima di incarnarsi. E' ovvio questo assunto se accettate che c'è la possibilità per lo spirito di vivere una esistenza nella materia e di vivere come realtà assoluta quella come spirito. Allora non è illogico pensare che lo spirito decida per un autogiudizio, per una autocritica di scegliere le proprie prove quando poi deciderà di incarnarsi nelle varie esistenze. Una sola, singola esistenza non sarebbe possibile per l'evoluzione. sarebbe anzi un insulto per la divinità che è amore e giustizia infinita. Come vi è stato detto in altre occasioni non c'è assolutamente qualcuno che ci giudica e ci punisce o ci premia se siamo stati bravi. Noi e voi siamo la manifestazione della divinità quindi c'è sempre un autogiudizio una autocritica e una decisione in gran parte evoluta dall'entità stessa. Quando poi l'entità non è in grado di decidere per il suo miglior procedere nell'evoluzione allora altre entità più evolute possono consigliarla ma le decisioni in ultima analisi vengono prese esclusivamente dalla entità che decide di incarnarsi. sceglierà appunto una società un posto un ambiente una famiglia in cui le prove che avrà deciso di sopportare e sperare di superare si manifesteranno si concretizzeranno. Quindi il libero arbitrio si esplica nella prima fase quella cioè che precede l'incarnazione in cui vengono scelte le prove ed in questo senso tutto sarà predestinato e predeciso. Una volta incarnati tutto concorrerà a far sì che quella prova se di prova importante si tratta si verifichi. A volte c'è un accordo con altre entità per cui il fallimento di una delle parti implica il cambiamento della vita dell'altra. dell'altra.